azione a basso basso azione signori e signori ma ciao ma che piacere immenso comunicarvi la nuova puntata di mezzo tg il primo telegiornale in madrelingua messinese conducono il studio io sei villari e quella grandissima signora mimma buona visione buon proseguimento ladies and gentlemen ben trovati a mezzo tg il primo delle giornate in madrelingua messinese vi piaccia o non vi piaccia signora mimma ma intanto vedo che ha cambiato la miss miss mette no su fantale cino questo è quello la vita invece quello che abbiamo usato nella prima edizione ci sta benissimo uffici da un tau tanto però signora mia come mai non lo so non lo so non poi non facciamo battute no 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 poi ci guai ma poi a free aspettare fria arriverà anche il tuo momento il tuo momento di gloria signora mimma vogliamo incominciare con questo mezzo dg un attimo prima cominciamo dice ma manco potremmo cominciare io sono seriamente preoccupata ma di chi signora io a mariella non è che a me mi cala da qua qua lei lo sa avevamo avuto qualche sentore ma non solo noi puro chiede che sono giocheri però lei l'ha vista veramente come comunata ma picchi chiave io sono preoccupata ma in che senso è preoccupata come una volta tutta la maniera come disse signora io non la posso vedere ma davanti a saluti no ma che c'entra saluti signora signora mimma la vede che ne so un pochettino pallida magari signora 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 e che sono momenti di scenografia tagli del montaggio contento tranquillo non sono ma anche io signora ma lei non può essere sollecitatore di pubblica sfiga come ci vediamo entriamo voglio dire una cosa abbiamo vi è una cosa seria è una cosa seria abbiamo visto un servizio ieri sera su tutti i telegiornali su facebook un un cretino picchi non si in mente ci deve essere nata stata a un giornalista della rai ma no picchi è da rai che non sta manco d'altro ma tutti i giornalisti non ti vuoi permettere il mercato in una testata a uno che venerà per giocare allora siccome sei uno a cui piacciono le cose eclatanti noi vogliamo noi noi che cosa vogliamo chiediamo tutti secondo secondo me dalle alpi al manzanar ok non comincia a fare cosa chiediamo che anche le forze di polizia magistratura nei suoi confronti si possono comportare come signora mi maniera eclatante ecco noi siamo vicini ora uno arriva e tu gli è nata stata certo abbiamo fatto ma spaventato perché ho lasciato così da l'intrasato no e non si fanno vista si chiama indegnitudine benissimo ora per lavorare col padre d'animo si no ho scelto non essere a me dimostrava agli occupa del doga infatti signora mi ma andava avanti comunque oltre è stata stata tu sto babbo sai cosa succede signora mimma che c'è il catena deluca famosissimo imperversa su tutti i telegiornali noi l'abbiamo scoperto noi l'abbiamo scoperto picchi l'abbiamo scoperto picchi rantoletto comunque tanto vediamo il servizio che deve essere fatto di marina pagliaro è relativo alla politica e poi torniamo sulla catena servizio di marina pagliaro se è vero che dopo una sfida gentile diventerà bellissima allora siamo davvero senza scuse voltata la pagina delle elezioni regionali siciliane del 2017 nate sotto la stella delle catene adesso è tempo di guardare alle elezioni amministrative del prossimo anno che chiameranno al voto noi cittadini per la scelta di sindaco e consiglieri a dover sovrintendere sulle promesse sulla loro realizzazione tutti noi attenzione quindi a non cadere vittime delle promesse di posti di lavoro di infrastrutture della realizzazione potenziale mai effettiva di nuove strade e ricordatevi ancora una volta delle condizioni in cui quotidianamente viviamo nella nostra regione e nella nostra città attenzione ancora a non recuperare i cacciati dall'ars attenzione a cambiare veramente i volti ma che sia un cambiamento reale e non un pretesto soltanto per tornare a un passato che non c'è mai stato attenzione a leggere i curricula di chi andiamo a eleggere attenzione ancora a ricordarci i nomi di chi in passato ha fatto promesse e non le ha mantenute chi salverà messina dal prossimo anno in poi quindi in questo caso non servono sfide gentili ma lotte accanite scegliete il futuro ma fatelo veramente siate scandalosamente liberi nello scegliere i vostri rappresentanti e se volete davvero riunirvi dietro un mandiamoli a casa fatelo davvero ma fatelo con criterio in gioco ci sarà la salvezza di messina non basteranno soltanto noi slogan ma servirà impegno bisognerà rimboccarsi le maniche guardare al futuro scegliere un pizzo che vi piaccia ma che soprattutto possa davvero aiutare la nostra città a essere bellissima diventandolo per noi nel concreto giorno per giorno marina è pazzesca marina gioia del mio cuore se una sognatrice si vede che si figlio legge ancora comunque gli anno gli anno sangue che c'è bugia però marina dico vediamo bene speriamo bella lo sanno che sono giovani non c'è bugia non semperamento ma come leghiamo usando ricettato ma signor figliari e io il sangue ricettato non riconciare non ce l'ho sì non ce l'ho pensassi a qualche altra cosa sua dormiente no 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 signora mi ma però non mi toccassi perché voglio dire dormiente se stiamo lavorando quale dormiente signora mi mandiamo un attimino cadeno dono davanti a una catena di sant'antonio vero e signora mi ma l'ho visto io secondo me ci succedi qualcosa del frano perché si è suggito un coppio e anno davanti a telecamera cadeno ora tu lo sai io ti difendo ti hai visto ieri no sono di parte e l'avvocato non assai a perché poi pensavo a poi mi sape chi uno come mi ha no tu tu non hai una testata cadeno che figure mi fai fare il giama nera il giama nera da presentare poi ti pare che non andai a buttare l'ammatio non ti potevi sistemare tanto bugitto ricettato l'unica cosa ordinata che via è di cazzo di capito siccome no come silvio berlusconi sta montatura cassopra nascito bello ricettato cassopra è tutto ricettato tutto di una brillantina io signora mimma ma noi dobbiamo rispettare il provvedimento del tribunale sta scherzando però signora c'è ma contare che succederò cose pazzesche che succederò nel mannaro mail cose messaggi signora mimma a questo punto noi siccome non possiamo che non rispettare la volontà del tribunale ma a questo punto tutta la gente di messina è preoccupata sapete per cui lo so io prego lo dico ma da salito ma da salito che io ho scritto per il tribunale eccellentissimo il tribunale di messina eccellentissimo pregiatissimo illustri si si vada avanti signora mimma noi rispettiamo la vostra volontà fate quello che dovete fare io fate quello che dovete fare però una cosa ci preme ci preme assai signora si si non sa accaccare sulla mano con il premio e ci dovete ascoltare ma tutta la messina io signor villari a questo punto visto che si dice così per ora lancierei una rasta una rasta o subbrane messina l'asta con imbediatamente a caccia quest'ora quella l'asta 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 vi lancio un hashtag tribunale hashtag vi darci la pecora o noi volemma pecora per paura avevo la tenemmo noi a tenemmo noi a meno fino a meno fino a pasca ecco poi a pasca per pasca volete buttare qualche guasciupatate vedete voi no che c'è no no che siamo interessati no che siamo interessati alla lana no 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 vabbè signora mimma noi siamo animalisti animalisti no no noi siamo un numale signora mimma vogliamo lanciare ancora il servizio di marina pagliari lanciamo lanciamo vai marina arancini ed elezioni da sempre l'accoppiata vincente che fa salire il cuorum e il colesterolo ma non tutti gli arancini hanno la stessa ricetta e non tutti i voti raggiungono gli stessi risultati cosa cambia è vero che l'arancino tradizionale il più richiesto come in cabina avremmo dovuto cambiare i nostri politici cari con cittadini potrebbe essere il tempo almeno di cambiare i nostri gusti in rosticceria ci troviamo in compagnia del signor famulari che fa ben 40 tipi di arancini ma quali sono gli ingredienti dell'arancino tradizionale messinese l'arancino messinese ci sono fatto con macinato con ragù di carne e piselli puoi vedere qua c'è tutto l'ingrediente e poi questi qua sono tutti gli arancini che noi facciamo per adesso quello che va per la maggiore è l'arancino che io ho dedicato all'avvocato ma non tutti gli arancini sono uguali? ogni arancino ha la sua forma con ingredienti diversi quali arancini avete venduto di più per le regionali 2017? addirittura è sempre l'arancino quello messinese, ragù di carne e poi quello che ci darò io avvocato, della felicità anche questo è buonissimo e l'arancino libero è il nostro campione così accanto all'arancino tradizionale si affiancano ormai numerosi gusti e varianti a differenza dei politici i cui volti ormai familiari rappresentano la nostra routine affezionati della politica e dell'arancino tradizionale riunitevi, è il momento della novità a chi farebbe complimenti in politica oggi? no, vediamo come si comportano, speriamo in bene per tutti noi, per i messinesi più che altro mascio tu gran servizio signora a me, ma lei che ne pensa? signor Villari io penso, penso che Marina io ci voglio bene, è bellissima, è sognatrice però non è solo sognatrice, è con me è mancuna, Marina Marina ma che fai manci solamente tu? ma io non lo so ma chiamo una settimana che la signora a me ma c'è caracino e c'è un arancino pare che non lo sapere e pigli e ci fai tu se il vizio spunna peti si chiama ma veramente, veramente, vai dal signor Famulare vai dal signor Giubbietto che cominciava a scrivere è arancino venti pezzi, venti e quale noi stiamo murendo da fame non ce l'aspettavamo, noi ci spuntamo da e ci facciamo un burdello che non finisce mai signora a me ma cà grazie signora signor Famulare da lei non me l'aspettavo non ce l'aspettavamo perché lei è un uomo d'onore e qua c'è un uomo di panza una guantera ce la poteva mandare è meglio ma manna sta guantera basta, ma che le canciamo la discussione ma lasciano questa storia a me ma lasciano che lì basta signora a me ma non è che ha lasciato il libare l'ha lasciata a libida come dice lei signora per favore non ne posso più come dice lei non ne posso più per vent'anni di salute sì sì, potremmo fare un servizio video, un servizio di Silvia Mondi per favore vediamoci servizio, vediamo un restauro l'arancino e camera anzi camera servizio vogliamo chiedere oggi a Stefano in cosa consiste esattamente il mestiere del tatuatore a fare i tatuaggi ma c'è un'arte sicuramente dietro no? sì, no, a parte gli scherzi diciamo il mestiere del tatuatore non è un mestiere facile anzi diciamo che è veramente molto molto difficile perché fare i tatuaggi vuol dire mettere le mani addosso a delle persone quindi bisogna essere diciamo competenti in materia soprattutto anche le le tecniche igienico-sanitarie sono molto importanti da rispettare e diciamo il tatuaggio modaiolo chiamiamolo così è un tatuaggio che molti lo fanno perché lo vedono in televisione lo vedono al calciatore e via dicendo allora pure si crea quel periodo in cui si usa fare quello ma io sono contro questa tendenza praticamente accontento sempre i miei clienti questo ci mancherebbe però cerco di dire e di consigliare i miei clienti al meglio ricordiamo tra l'altro che Stefano ha vinto numerosi premi sì ho vinto numerosi premi l'ultimo l'ultimo premio l'ho vinto ad Atene la convenzione internazionale di Atene che si è tenuta a maggio maggio scorso dove ho vinto praticamente il primo posto nella categoria color con un tatuaggio che rappresentava una campana degli ACDC stiamo quasi arrivando a 25 anni ma mancano poco va bene allora ringraziamo Stefano che è stato con noi oggi nostro ospite e ci rivediamo al prossimo tatuaggio senza altro quando volete tatuarvi venite da me se vi posso accontentare vi accontento mi piace mi piace Silvia che segue queste cose degli artisti lei lo sa pare che dico sempre una cosa a me l'arte mi piace questa è una forma d'arte molto ma voi Stefano del Popolo è uno veramente professional signor Villari non lo so se glielo vuole dire lei no chi ma da che stavo parlando del signor del popolo che io l'ho sentito nominare che è un artista signora Mimma basta che lei va in giro e ci sono a tutte parte e ci dice sogna signora Mimma gli aprono subito non c'è bisogno ma come ci dice di tutto modo lei se la ricorda quella storia che io c'è col tatuaggio si mudisse la papuzza la papuzza signora Mimma signor del popolo non è che mi farebbe una cortese siccome io l'ho fatta tanti anni fa e ce l'ho neanche nero non è che me la può fare colorata signora signor Stefano del Popolo signora Mimma lave in bianco e nero se lei ci può mettere ma è a coccinella però per favore a papuzza ci pare che mi fa sta facendo rattare tutto ma ne ha molti ma giusto che non c'è oh abbiamo finito sì abbiamo finito forse hai visto ma salutare signora Mimma salutiamo però signora Mimma lei come pensa di salutare oggi no 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 non glielo dico ossegui no ah ah me fa scantare ossegui glielo posso dire ossegui sì non glielo dico più ossegui lei lo sa io ossegui non glielo dico perché per me per lavorare con lei è veramente un cordone no signora Mimma eventualmente un orgoglio servire la città di Messina a domani scriveteci scriveteci condivideteci sa nunca non ne dugnano soldi a domani non ne dugnano soldi non ne dugnano soldi